Buongiorno, buongiorno a tutti, ci sono anche un anno di un'azione dell'Africo abbastanza impossibile, diciamo subito che la comunicazione di servizio, questa che ormai al momento è impegnata in un'azione dell'Unione e ci raggiungerà nel corso della mattinata e daremo la parola in un'azione dell'azienda per il suo sabato. Siamo a parlare del nostro pezzo forte, cioè la rete oncologica, come tutti i sistemi, la nostra rete oncologica è la sanità italiana, funziona rispettamente bene, anche recentemente siamo portati in maniera formale anche con altre esperienze, però come tutte le organizzazioni molto complesse ha bisogno di manutenzione, perché la manutenzione è fondamentale. Possiamo pullarci nell'idea di aver esplicitato che l'avamo andato avanti in una situazione molto appostante e efficace, dobbiamo concentrarci sulle cose che non vanno, che sono quelle che e fare appunto manutenzione perché tutto è migliorabile e attualmente, in un momento in cui, ma io mi sento qui dall'attacco del sistema sanitario pubblico, è molto importante con le motivazioni per altre vittime, soprattutto attraverso la via delle affrontiere riorali, proprio in questo momento, il sistema sanitario pubblico ha bisogno di manifestare la sua importanza, la sua sensualità, tutto questo è una tradizione che non è arrivabile in un certo senso, che lo dico da un posizione storico della differenza politica in questa regione, ma anche da un posizione pubblico appartenente, che è prevista da pubblico e collante della regione e collante del paese, in questo momento non è abbastanza particolare, quindi oggi facciamo manutenzione, siamo tutti attenti e lavori abbastanza navigati con questo tema, per cui è l'occasione per ripartire il modlancio in questo scorso di demonstratura e migliorarci ancora, e poi speriamo che succeda. Sto quindi la parola a Gianni Alunni, perché intanto ci parla della governanza, che senza quella non si vada a essere la parola. Sì, io parlerò del tema della governanza, che è forse un po' un tema da addetti ai lavori, ma credo che se si apre in chiaro come i percorsi decisionali poi si distendono su un sistema a rete, credo un pezzo di strada l'abbiamo fatto. Questo è un riassunto storico della rete in Toscana. Noi parliamo di rete oncologica per la prima volta nel 1998, questo sgombra il campo tra la riattiva tra noi e i piemontesi su Piazza, la più vecchia rete oncologica in Italia, hanno tutte e due la stessa età. Quindi nel 1998 all'interno del piano sanitario dell'epoca c'è un'azione programmata per l'oncologia che per la prima volta dice in Toscana faremo oncologia con il modello a rete e tra l'altro ne definisce, potrebbe essere interessante per i tutori della materia, anche gli aspetti organizzativi, per la prima volta si parla di corte, si parla di gruppi oncologici multidisciplinari. Nel 2001 la rete oncologica si struttura come Istituto Toscano Tumori. Ho citato che nel 2008 nasce anche l'Istituto per lo studio della prevenzione oncologica. In realtà non nasce, ma dopo una vicenda che ha avuto anche valenze al termine, da un'esperienza storica e anche gloriosa della Sanità Toscana, presentata all'inizio dal Centro di Medicina Sociale di Firenze e poi dal Centro per lo studio della prevenzione oncologica, nel 2008 si conferma che l'evoluzione di questa storia essenzialmente legata agli aspetti della prevenzione oncologica si struttura nell'Istituto per lo studio della prevenzione oncologica. Nel 2010, e questo è un passaggio che secondo me anticipatorio della fase successiva, si stabilisce che l'Istituto per lo studio della prevenzione oncologica e l'Istituto Toscano Tumori, cioè la rete oncologica, dovevano avere la stessa direzione. Io vengo nominato direttore generale dell'Istituto in quanto questa è la delibera direttore dell'Istituto Toscano Tumori e quindi della rete oncologica. E poi arriviamo alla storia recente, nel 2018, fine 2018, nasce l'Istituto per lo studio della prevenzione e la rete oncologica che appoglie prima o dopo, al suo interno, queste due esperienze. in questi anni si è parlato tantissimo di rete. Io credo che la rete sia una delle parole più inflazionate come l'appropriatezza, come i pazienti al centro e così via. Tutti hanno parlato di rete, tutti hanno detto di aver fatto una rete, questo non è assolutamente vero e allora mi sembrava giusto ricordarsi per un attimo quella che per noi è stata la definizione di rete oncologica. Per noi la rete è una relazione strutturata, quindi non è una relazione amicata, è una relazione definita da procedure di un insieme articolato di istituzioni complementari. Guardiamo dall'alto un territorio regionale, ci sono ambulatori di base periferici, ci sono istituti finalizzati alla ricerca, ci sono aziende dedicate all'alta specializzazione, la rete significa mettere insieme tutte queste realtà tra loro diverse e trovarne la complementarietà. Se questa definizione è giusta, ma soprattutto se questa definizione è declinata in atti concreti, tutte queste cose assumono un valore aggiunto. È più facile fare sinergie di percorso, è più facile ragionare in termini di casistica regionale, è più facile tentare quella continuità ospedale-territorio che ancora oggi è un elemento di specificità. È più facile governare l'accesso all'alta specializzazione e all'innovazione, è più facile governare l'appropriatezza. Questo è il modello di percorso di una rete oncologica. Vedete, tanti accessi diffusi nel territorio, quelli che abbiamo chiamato corde accoglienza, quelli che in Piemonte chiamano GIC, per esempio, no, Cassa in Piemonte. Tanti accessi diffusi nel territorio che rispondono a un criterio, che è quello della prossimità dell'accesso al sistema. Io non mi vado a cercare l'istituto di riferimento, ma entro nel sistema che vi porterà alla cura migliore vicino a casa. L'altro elemento fondamentale è che tutti questi accessi parlano lo stesso linguaggio, cioè fanno riferimento a PDTA condivisi e quindi la lingua con cui si parla al paziente, sia che entri nel corde di Grosseto, quello di Firenze o di PIS è sempre la stessa. Da qui partono o dovrebbero partire percorsi assistenziali condivisi che vedete collocano il paziente nella sede più opportuna, più ergonomica per il bisogno sanitario che richiede. Questo significa che buona parte di questi percorsi possono iniziare e chiudersi nella realtà territoriale in cui si sono determinati, altri avranno bisogno di quelle sinergie interaziendali fino a portare in un numero limitato di casi il paziente anche nella sede dell'alta specializzazione e della complessità. Noi siamo sempre stati convinti che la scelta del modello a rete rappresentasse comunque un valore aggiunto per rispondere alle domande che più frequentemente il paziente oncologico e la sua famiglia si fanno quando hanno una diagnosi di tumore. Guardate, sono domande sostanzialmente legate all'incertezza e alla paura. Cioè, ma io qui sono nel posto giusto, ci sono tutti i professionisti che mi hanno detto dovrebbero seguire il mio caso. Poi c'è la pressione mediatrica, ma qui ci sono anche le terapie più nuove che ho letto sul giornale. C'è qualcosa che può venire dal mondo della ricerca o delle sperimentazioni. Ecco, essere dentro una rete significa essere anche dentro una rete di protezione che ti aiuta in qualche maniera a superare questi dubbi. ma siamo anche convinti che il modello a rete sia quello più in grado di superare alcune criticità dell'oncologia. Guardate, quelle che vedete qui scritte sono quelle che ognuno di noi vive quotidianamente a seconda del ruolo che svolge nella filiera oncologica. Ma davvero tutti i cittadini sono uguali nell'accesso al sistema, ma davvero dappertutto l'oncologo medico, il chirurgo e il radioterapista lavorano insieme in maniera contestuale. Questo tema della continuità di cura quando passo da una fase terapeutica all'altra è garantita. e aggiungo il tema dell'innovazione che deve stare dentro i percorsi assistenziali, ma che non sempre è un diritto fluibile. Fino all'ultimo tema, quello della sostenibilità economica, che è un tema rilevante. Voi sapete che è in essere tutta una discussione del concetto di rete come momento per un buon utilizzo delle risorse che sono sempre più a rischio ed è a rischio, mi richiamo a quello che diceva Enrico nella sua presentazione, è sempre a rischio il diritto che davvero tutti i cittadini siano uguali di fronte alla prospettiva di clinica. E la rete serve anche a raggiungere con più facilità quelli che sono gli obiettivi strategici di ogni sistema oncologico e sono quelli di legare la prevenzione primaria o la prevenzione secondaria e con il percorso di cura, che sono quelle di aggiungere all'appropriatezza clinica, ciò che è giusto fare, anche l'appropriatezza organizzativa, ciò che è giusto fare nel posto giusto per fare questo tipo di prestazioni. Il tema della presa in carico, vedete ancora una volta, consentire la disponibilità all'eccellenza e poi governare l'accesso all'eccellenza. in questi anni, insomma sono 21 anni, tante cose in Toscana sono state fatte, guardate tra l'altro c'è un elemento di riflessione forse con il motore sanitario per sviluppare anche in futuro. Cioè, tutte quelle che sono state le rete oncologiche più robuste, più consolidate, hanno fatto tutto lo stesso percorso, magari chiamando in maniera diversa l'accoglienza in Piemonte o la multidisciplinarità. Quindi questo significa che anche in assenza di contatti strutturati ci sono dei percorsi quasi obbligati e l'evoluzione di una rete passa attraverso tre modalità di azioni che si intersecano tra di loro. All'inizio va valorizzato il concetto di rete, va comunicato il concetto di rete. Guardate, anche per il professionista lavorare in rete è lavorare in una maniera diversa da quella con cui siamo stati per esempio preparati o formati. Poi c'è una fase in cui la rete si dota di infrastrutture e service per l'intera rete che sono la dimostrazione concreta che essere in rete produce qualche cosa di più. Poi c'è la fase, quella più complessa, anche quella più stimolante, quella più fortemente legata agli aspetti della governance che è quella della modulazione dei nodi e del governo della casistica verso i centri più appropriati. Vi cito soltanto per farvi vedere le azioni che sono riconducibili a queste tre categorie. La valorizzazione dell'oncologia in Toscana ha significato per esempio all'inizio compiere con l'oncologia tutta una serie di realtà territoriali che non l'avevano. Io ricordo sempre, come dire, con una certa elemento di riflessione che quando siamo partiti noi avevamo in Toscana due sole strutture complesse di oncologia medica, una a Pisa e l'altra ad Arezzo che nasceva da un percorso che veniva dagli stili. Ci siamo preoccupati di dare un modello organizzativo comune, che tu fossi a Viareggio o tu fossi a Pisa, il CORD era accordo per tutti il dipartimento oncologico e il dipartimento oncologico. E abbiamo lavorato specialmente nella fase iniziale della costituzione delle reti sul tema del monitoraggio dei comportamenti e della dimostrazione della omogeneità delle procedure. Io ricordo una conferenza dell'organizzazione che si svolse a Arezzo dove, insomma, uno sforzo enorme perché si è trattato di andare a rivedere cartelle, si diceva, bene, noi abbiamo detto che nel tumore del colon devono essere presi almeno 12 limfonoti e siamo andati a vedere se davvero a Lucca, come ad Arezzo o a Pisa questo avveniva. E c'è stato anche, questo nel evento, guardate, caratterizzante il modello toscano rispetto ad altri modelli di rete, anche un'attenzione particolarmente forte al tema della ricerca con un sostegno alla ricerca diffusa con due bandi che hanno prodotto anche un investimento in termini di risorse economiche. Le infrastrutture semplici, se vi vedete un po' di tutto, sicuramente un'infrastruttura di rete è questa in cui siamo ora l'aver creato una struttura di laboratorio di ricerca di base che non era di questa o quella azienda ma era patrimonio della rete oncologica. Aver spinto, nonostante le difficoltà che derivano da un punto di vista normativo, apro e chiudo la parentesi dei comitati etici, ma aver spinto perché ci fosse un coordinamento dei trial clinici che consentisse ad ogni cittadino, a prescindere dalla sua sede di residenza, che potrebbe essere inserito in uno studio clinico, il registro tumori. Abbiamo avuto nella fase iniziale della rete un'esperienza faticosa ma particolarmente esaltante nelle molti videoconferenze. Tutti martedì ci incontravamo insieme e abbiamo costruito, io lo porto sempre perché lo considero una conquista importante del nostro modello, un numero veloce per l'oncologia attivo in tutta la settimana che ha rappresentato, come dire, un formidabile meccanismo non solo di supporto al paziente perché sostegno psicologico, orientamento nei concorsi di rete, ton ton, ma ha rappresentato anche una formidabile fonte di informazione per capire quali erano i problemi e come eravamo vissuti. E poi la fase della modulazione degli snodi e del governo della casistica, fase faticosissima, quella di cui mi sembra parlerà dopo la Luisa Fioletto, quella di aver pensato che buona parte della patologia oncologica doveva essere trattata con qualità nei diversi nodi della rete ma che per alcune patologie oncologiche meno frequenti, più complesse, si doveva cercare di centralizzare la casistica in strutture che avevano volumi appropriati di casistica oltre che espertise professionale e dotazione tecnologica. Ricordo a tutti voi, perché ormai ci conosciamo tutti da anni, come è stato faticoso affrontare il tema, per esempio, del tumore del pancreas, pensando che il tumore del pancreas non può essere trattato da più di tre centri in tutta la regione. Abbiamo spinto sempre di più verso questa logica del network di area vasta, dove le due aziende oggi dopo la riforma, quella ospedaliera e quella territoriale per forza devono integrarsi in una gestione virtuosa e condivisa del percorso. Si parla di governance, guardate, c'è una delibera, la numero 352 del 2010, quindi sono passati quasi dieci anni, nella prima delibera in cui si dice che le aziende insieme all'allora i tt devono valutare e condividere cosa centralizzare in una sede, cosa diffondere in un'altra, che poi è il tema più complesso del nostro lavoro. Noi abbiamo, come dire, viaggiato molto nei primi vent'anni della guerra e abbiamo anche incominciato a confrontarsi con altre esperienze regionali. Io metto nel 2017-2018 il momento della riflessione perché è stato quello che poi ha prodotto l'evoluzione che oggi stiamo vivendo. Che cosa potevamo dire dopo vent'anni di rete? Al netto della tendenza che specialmente noi abbiamo di dire male di noi stessi, no? Allora io mi regolo sempre su questo, no? Ipercritico quando sono a casa, poi passo la fine della regione, mi confronto con altre regioni e dico, ma insomma, forse, forse ogni tanto bisogna dirsi che qualche cosa l'abbiamo prodotto. Però questa era la sintesi delle riflessioni che anche nell'ufficio di direzione, qui ci sono tante colleghi che vi partecipano, abbiamo fatto. Cioè la rete si era consolidata. In Toscana, insomma, non c'era più bisogno di spiegare la scelta della rete. La rete l'avevamo digerita. I professionisti sono stati incredibilmente collaborativi per la realizzazione della rete. Perché guardate, lavorare in rete significa per esempio dedicare un tempo alla rete che è un tempo, che è una zona grigia, che nessuno considera. Ma devo dire che anche le direzioni aziendali in questi anni sono state molto collaborative. Anche se non c'era scritto da nessuna parte come il coordinatore della rete che poteva incidere sulle scelte del direttore generale dell'azienda Toscana Centro, questo elemento di collaborazione non strutturata, non proceduralizzata, ha funzionato. Certo che si creava una situazione in cui le attese sono sempre maggiori. Perché la fase pionieristica è sostanzialmente finita e non hai strumenti adeguati per fare questo secondo tempo. Per cui è a un certo punto, e questo guardate, successo in Toscana, come in Piemonte, come in Veneto, cioè in tutte le regioni che hanno fortemente lavorato sul concetto di rete, a un certo punto si rende necessaria una transizione. Per noi la transizione doveva coprire due aspetti fondamentali. Uno, lo stato giuridico della rete, cioè la rete non può essere meramente una categoria del pensiero o una scelta filosofia, ma deve avere un nome, un cognome, un indirizzo, meglio se c'è anche una partita IVA o un consiglio di amministrazione. E l'altro elemento era il tema della governance, che, avete visto, è stato un po' un filo conduttore di tutto quello che abbiamo visto fino a ora. Noi abbiamo declinato queste due cose in questa maniera. Avevamo l'ISPO, che era un ente del servizio sanitario regionale, finalizzato alle attività di prevenzione oncologica e di sorveglianza epidemiologica, un ente del servizio sanitario regionale, quindi con nome o nome, indirizzo e partita IVA per intendersi. E poi avevamo l'IPT, che era invece un organismo di governo clinico che stava in regione, quindi con forte vocazione alla governance e con scarsissimi strumenti in termini giuridici. Vi ho fatto vedere prima che però nel 2010 intanto avevano detto che la direzione doveva essere un'altra. Dalla fusione di questi due enti, che oggi non esistono più nella realtà toscana, nasce l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Voi capite che anche nell'acronimo si inserisce il concetto di rete oncologica, che prima era di titolarità soltanto dell'Istituto Toscano. E questo è, come dire, la mission che sta dentro il simbolo del nuovo ente, e vedete le parole chiave sono fondamentali, insieme, cioè tutta la Toscana, per capire, quindi ricerca, evitare quindi prevenzione e curare il panico, quindi percorsi terapeutici. Questo è un elemento caratterizzante del modello a rete della Toscana, che tende a tenere insieme questi tre momenti, quelli della prevenzione, della fuga e della ricerca, che invece in altre esperienze regionali, peraltro anche questo è molto importante, non viene mantenuto in maniera così forte. Quello che vedete qui sono le cose riprese dalla legge istitutiva di Istro, quindi promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quindi, la prima gamba dell'Istituto è la prevenzione, e la prevenzione non è soltanto screening, quindi prevenzione secondaria, ma è tutto ciò che è prevenzione. Il secondo punto, che ho preso anche questo dalla legge istitutiva, vedete, organizzare e coordinare, in sinergia con gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi e cura di reddito. Questa è un'affermazione fortissima, è un mandato assolutamente importante, dobbiamo riuscire a vetrinare, perché si organizzano e si coordinano, insieme alle aziende, ospedaliere e territoriale, i percorsi di diagnosi e cura, che non possono che essere i redditi. Il terzo elemento, coordinare i programmi di ricerca in ambito di colore, che significa introdurre un concetto aggiuntivo, che è quello della ricerca di rete, e di portare il coordinamento di questa ricerca di rete, proprio dentro l'Istituto di coordinamento della rete. Molto velocemente, queste sono le attività fisicamente dentro Ispro, quindi si è fatto dall'edificio Passoca, Villa Pellerose e questo qui, vedete, sono tutte cose riprese dalla legge, quindi il coordinamento della rete, il governo clinico, le azioni sugli screening, entrano dentro l'Istituto, il call center, che prima era connotato in regione, il registro, che viene direttamente dedicato da Ispro, e così via. Abbiamo anche due funzioni nazionali, che sono l'osservatorio nazionale screening, della banca dati dei registri tonori AITUM, che Ispro svolge su delega del Ministero della Salute. Gli organismi del nuovo istituto, a parte la direzione, c'è un comitato scientifico, e il resto è un istituto che metteva al centro anche il tema della ricerca oncologica, lo deve avere, e poi gli organismi di coordinamento della rete. Bene, in maniera strutturata, ha declinato il governo della rete, con un comitato strategico, un comitato tecnico, che ora andremo a vedere. L'altro elemento, che introduce la legge costitutiva di Ispro, è, guardate, questo che può essere la svolta, cioè il documento di indirizzo proveniente. Ispro, attraverso i suoi organismi, deve produrre un documento di indirizzo pluriannale, per l'opologia, che ovviamente deve essere coerente, o nel piano socio-sanitario. Ma che vedete, individui, obiettivi e livelli di attuazione, stabilisce assette organizzativi con la complessità, quindi definisce le unit, la rete dei tumori reali, tutte cose che poi si collopano, non in Ispro, ma dentro le aziende ospedaliere e territoriali, definisce le tipi di che perdere patologia, e guardate, prevede risorse e bisogni stimoli. In pratica, si introduce in Toscana la produzione di un documento, che è un documento di programmazione per concorrencia, al quale devono fare riferimento tutti gli attori presenti in Toscana, perché ne contribuiscono alla realizzazione. Quindi, questo, perché appassionati con molti, del sistema degli aspetti governance è un passaggio assolutamente centrale, perché definisci il perimetro entro cui ti puoi muovere. Non può esistere che un'azienda X definisca di fare una cosa, non so, in vesto in agroterapia, che non sia dentro il documento di diritto. Il comitato scientifico, molto velocemente, è composto da sei membri più un coordinatore, tre sono membri del servizio sanitario regionale, tre membri esterni. Vedete le funzioni, oltre a contribuire al documento di indirizzo, promozioni, monitoraggio dell'attività di ricerca, e azioni per il trasferimento dell'innovazione alla clinica. Il comitato scientifico è composto da meno di un mese. Abbiamo anche il coordinatore scientifico, il professor Giuseppe Giacome, che dagli Stati Uniti è diventato in Italia. Vi vorrei che vi soffermasse un attimino invece su questo che rappresenta davvero lo strumento di governance. Il comitato strategico è composto dal direttore generale di Ispro che lo coordina, il sottoscritto, e vedete tutti i direttori generali delle aziende sanitarie, i direttori della programmazione c'erano, ora non ci sono più, il direttore generale dell'assessorato e i settori regionali competenti, quindi il settore qui rappresentato dal dottor Panno, il settore delle vie cliniche, ospedaliere, il settore delle vie territoriale, stanno qui dentro. Quindi esiste un organismo in cui ci stanno tutte le direzioni aziendali che produce il documento di governance. Quindi c'è un momento istituzionale in cui gli attori del sistema, quelli che hanno titolarità decisionali nelle scelte, condividono quello che pensano di fare. Promuove il sinergente dalle aziendali, monitora le attività di rete e individua l'attività del comitato scelto. Questo è il coordinamento dei ripartimenti oncologici. Vedete? Ci vediamo ogni 15 giorni quando dico il tempo per la rete significa tanto tempo dedichiamo a queste funzioni. Qui questo organismo è coordinato dal direttore generale dell'Istituto e ha tutti i lettori dei ripartimenti oncologici delle aziende, il rappresentante del medico di medicina generale che poi farà una presentazione, il direttore della rete oncologica pediatrica del dottor Parque, i settori regionali competenti per il nostro lavoro. Guardate, vedete un attimino cosa definisce le modalità attualtive del documento di indirizzo. Quindi c'è un'andata e un ritorno. Faccio proposte, il documento di indirizzo viene realizzato e vediamo come si attua. Ma guardate, io vi invito a guardare il punto 3. Coordina le iniziative di Valenza regionale omogeneità di un'indirizzo